vai 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 che si ferma qua che porcone che porcone che sei guarda che è una roba incredibile allora che cacchio deve essere fatto viva 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 silva trasviate dos viva 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 da la piena la piena no la zucchina no la zucchina no la zucchina no la zucchina no c'è giù la zucchina e questa è la zucchina e questa è la zucchina dai mica se no non lo puoi più portare dopo se no non puoi più portarlo non lo puoi più portarlo non lo puoi più portato non lo puoi più portarlo Grazie a tutti.